I believe in you. Io credo in te. È il motto di Ibelieveinyou.ch, la prima piattaforma di crowdfunding specializzata esclusivamente nel finanziamento di progetti sportivi svizzeri. Qui, gli appassionati di sport possono aiutarsi a vicenda a realizzare i propri sogni. Ogni mese, PostFinance sostiene 30 progetti con il PostFinance Boost. I primi 30 progetti del mese, che raggiungono il 50% della somma prevista, ricevono un contributo finanziario di 200 franchi, a condizione che il progetto sia stato finanziato con successo. In questo modo, PostFinance contribuisce a motivare i fautori del progetto nel raggiungimento dell'obiettivo, dimostrando il proprio impegno nei confronti dello sport svizzero in tutte le sue forme. Grazie a tutti.